Una partita finita il quarto set, dove avete dato l'anima, forse vi sareste meritati anche il tie-break. Ah sì, eravamo vicino, eravamo vicino quasi tutta la partita, però alla fine del quarto abbiamo lasciato qualche side-out importante. Contro queste squadre come Trento non puoi fare questo, alla fine per lì. Chiaramente ora c'è amarezza, ma c'è anche soddisfazione per avere fatto una partita, se possibile, ancora migliore di quella di Trento, di quella che avete giocato là. Ah sì, sicuramente migliore, però possiamo anche fare meglio di questo oggi, perché abbiamo lasciato tantissime possibilità a prendere punti. Però eravamo sempre lì, manca solo finire questi set alla fine. Senti, sei stato richiamato in campo e hai risposto presente con una buonissima prova. Buonissima. Lo so, io do tutto ogni giorno, provo a aiutare la squadra in questo momento. Sì, anche in campo provo a aiutare, meglio se vinciamo, però ci sta. Grazie. Grazie. Grazie.